Sicuramente l'avrai vista anche tu come me. Allora, come si chiama l'interprete maschile del film titanico, Titanic? Brava! Invece di fare il cocktail vai a vedere i film? Invece di fare il messaggio con l'absoluto? Vai a fare i cocktail al circo. Con l'absoluto bisogna lavorare, non andare a vedere i film. Questa è la logica, se vogliamo. Allora, in che città nasce l'hamburger? Che ormai è famoso da ovunque. In che città nasce? Come piatto? Ma come stato? Come stato? No, città. L'hamburger, come volete chiamarlo. Quindi questo è composto di carne trita. Andiamo alla torta. Hai vinto un corso del valore di mille euro. Dai, fai di guarsi dove vuoi, è proprio spese. Dai, fai di guarsi dove vuoi. No, città.